non è come tua madre deve crepare di cetrioli infilati nell'anno in periodo natalizio ciao ciao occhi dolci occhi dolci e sorriso smagliante una gioia di vivere bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sono FaviJ e oggi siamo su un altro gioco di mer ah sto scherzando siamo su un gioco figo ve lo giuro si chiama Dose Night at Reaches che sarebbe un'altra di quelle mod di Fire Night at Freddy's si quello schifo seriamente l'ho scelto perché sembra figo username ma serio ma come banana48 ti suco la nonna giusto si enter eh perfetto vedete che funziona ma le ricordo io le mie password first night ragazzi prima notte è già partito più figo di Five Night at Freddy's alla madonna è così figo no ma veramente è così figo allora right mouse button flashlight perfetto lean in lean out e dov'è l'inon non ho capito il senso di sta roba però ma cos'è ok bellissimo qualcuno mi spiega che cosa dovrei fare cioè io mi devo girare intorno mi devo girare intorno va bene l'inon ah è una donna quante corsie ci sono in sto gioco no vabbè è impossibile posso correre ma sei serio cazzo è più bello di Five Night at Freddy's davvero press z l'altra invece che porta è questa qui ok quindi se vedo qualcuno che passa basta che chiudo ste cose giusto ricapitolando devo controllare un botto di roba ciao ragazzi oh finalmente posso vedere dove sta la gente salve fratello senti non mi fare scherzi per cortesia tra l'altro ragazzi sono le 5 di notte cioè mi manca un'ora ho vinto e non ho fatto un cazzo ho vinto oh ho vinto oh fuck yeah second night ragazzi la prima notte è stata difficile non è successo un pene oddio ma sono in quattro raga c'è anche un tipo dietro a casissimo no ma questo qua chi minchia è cioè questo qua spunta a caso cioè no quindi sono in 5 posso correre ma che sorridi ragazzi c'è qualcuno che ha riso ma non ho capito chi vabbè ti giri perfetto mi mette in ansia che non avete idea sto gioco ragazzi perché le tendine erano aperte chi è che ha aperto le tendine del bagno pervertiti schifosi che cazzo vuoi tu ma ora mi si gira male subito raga raga ragazzi oh sono andati via in due eh raga sono andati via in due non li vedo già più ce ne stavano due qui dove cazzo sono fin... ah ecco uno è qua bello sei e l'altro? no no seriamente ragazzi dove minchia è l'altro? chi è che ha aperto le tendine del bagno? ah perché le devo tenere chiuse le tendine del bagno che se si aprono succede qualcosa di brutto fantastico mi è andata di culo che ho fatto in tempo a chiudere le tendine del bagno dove è l'altro? ragazzi oddio che troia ladra bastarda che troia figlio di androcchia me so cagato troppo me so cagato succhiami la nonna questa è quella di prima ok il bello è che dalle telecamere non si vedeva niente non so da dove cazzo è uscito non si è capito vabbè a belli che si fatemi un altro scherzo così che vi stupro la nonna chi è che sta aprendo le tende con questa lentezza incredibile? qualcuno me lo spiega giorno bella giornata eh salve questi rumori magari no eh lo dico perché sono una persona amichevole fatevi i cazzi vostri non mi ruttate in corridoio per cortesia dai che sono le 5 di mattina forza dovremmo avercela fatta sì sì terza notte ok da adesso in avanti dovrebbero iniziare i problemi perché io in un five night at freddy non ho mai finito la terza notte mai sì vabbè che cazzo è oh non c'è nessuno dove siete ragazzi uno sta qua che bello che guarda guarda quanto sono che cazzo è successo da passo dovreste saperla ormai tutti non ho capito chi mi è spuntato c'è uno a caso niente sono già tutti non c'è più nessuno fantastico ma siamo partiti da un minuto dai regà minchia dai zio porca minchia serio questa non la sapevo si poteva nascondere sotto la scrivania ma serio ci sono un miliardo e mezzo di cose da fare in sto gioco non è come sua madre deve crepare di cetrioli infilati nell'ano in periodo natalizio da pure il mouse si è scassato il mouse fantastico eeeh ciao te deve morire il cugino ma poi ragazzi devi fare l'ultimo tentativo perché sta uscendo una roba esageratissima di tutte ste morti che ho fatto ragazzi ve lo giuro non ho capita neanche una mi è spuntato un porco eh che sarebbe questo qui dietro porca troia la tenda la tendina mi sono dimenticato la tendina vai a dimenticarsi la tenda che si apre che finisco male porca mignotta è passato dall'essere troppo facile all'essere impossibile cioè veramente dal terzo in poi il bello è che all'inizio mi sembrava talmente facile che volevo aumentare anche la difficoltà ma cazzo proprio chiudi porca troia si è chiuso? ho aperto ho aperto sono un deficiente di merda ho aperto la porta come un coglione ho aperto perché avevo chiuso e poi ho aperto avevo chiuso e poi ho aperto odio sto gioco già a prescindere c'è la modalità difficile c'è la modalità questa è la modalità normale normale ma poi ragazzi sono un deficiente ma questa cosa già si sapeva quindi non è un problema esiste anche la versione hard cioè questa è la versione normal e la prossima volta la faccio perché sono masochista quindi ragazzi spero che il video vi sia piaciuto concludo qui l'episodio un bel mi piace perché ho trovato ho scoperto che l'acqua in situazioni drastiche funziona la prossima volta assumo un filippino che mi tiene la bottiglia così quando prendo un infarto me la versa in automatico comunque ragazzi concludo qui l'episodio spero che il video vi sia piaciuto e come se il video vi sia piaciuto lasciate un commento e un mi piace anche la pagina di facebook e come il video trovate nella descrizione se non sono un sito iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video bello ragazzi